Questa dovrebbe essere la stagione dei lattari, ci dovrebbero essere tantissimi lattari, invece vedo che anche stamani li abbiamo trovati poco e niente, e tutti dello stesso tipo più o meno, sì. Tutto è Lattarius chrysorreus. Vedete, qui c'è un lattice, come tutti i lattari sono già, si chiamano lattari proprio perché una volta che si feriscono, si fa un'incisione sull'amelle o anche semplicemente si rompe la carne così, emettono un lattice, vedete? Questo lattice che può essere dei colori più svariati, sia anche al momento in cui esce, può essere bianco, può essere giallo, può essere le diverse tonalità del rosso fino all'arancione, oppure può essere bianco, oppure può essere anche trasparente, come acqua, che però cambia di colore, vedete? Questo era bianco inizialmente e già è diventato giallo. Poi ci sono dei lattici che diventano viola, tanto per dire.